Le definisce dichiarazioni odiose, offensive e discriminatorie. Chiara Braga, deputata comasca del PD, passa al contrattacco e con un post sulla pagina Facebook del PD nazionale risponde a Lorenzo Quadri, direttore del mattino della domenica, pubblicazione della Lega dei Ticinesi, partito di cui Quadri è deputato federale, dopo l'articolo in cui aveva usato Toni Pungenti, in cui in sintesi si diceva se non volete che gli italiani rischino di venire in Svizzera a sciare, tenete a casa anche i frontalieri. Nell'ultimo numero del giornale, Quadri ha utilizzato i frontalieri per sbeffeggiare l'Italia e attaccare il presidente del Consiglio, colpevole, a suo modo di vedere, di essersi espresso sull'apertura svizzera degli impianti sciistici, che, come è noto, in Italia invece dovrebbero rimanere chiusi per evitare spostamenti e contagi. A stretto giro, la dura replica di Braga, componente della segreteria nazionale DEM, dichiarazioni, ha scritto, con cui tra l'altro invita testualmente il governo italiano a tenere a casa i suoi concittadini, a non farli andare a lavorare in Svizzera, insomma, perché, si legge ancora nel post, gli svizzeri vengono prima, prima degli italiani. Parole odiose, offensive e discriminatorie, contro l'Italia, ma soprattutto contro decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che meritano rispetto. Allo stesso tempo, però, sono parole che ci insegnano una cosa, conclude la deputata, ci sarà sempre qualcuno destinato a venire prima, anche se sei italiano e del nord. Sotto il post sono arrivati quasi 500 commenti.